Dal 7 maggio da Foggia si volerà in direzione Milano-Linate, ovvero si atterrerà direttamente a pochi passi dal capoluogo Lombardo, distante appena 7 chilometri dallo scalo. A comunicarlo è Aeroporti di Puglia che ha rilasciato al vettore Lumi Wings le autorizzazioni per operare sullo scalo cittadino milanese, oltre che su quello di Malpensa. Provvedimento che, come detto, partirà dal 7 maggio e andrà avanti fino alla fine di ottobre. Un volo in programma ogni domenica con partenza dal Ginolisa alle 8.05 e arrivo allinate alle 9.35. Da Milano il volo è programmato alle 11.35 con rientro a Foggia alle 13.05. Dal 3 giugno invece, e sempre fino al termine della stagione estiva, alla frequenza della domenica si aggiungerà anche quella programmata il sabato con partenza da Foggia alle 12.15 e arrivo a Milano Linate alle 13.45. Gli orari del volo da Milano a Foggia invece sono stati programmati alle 15 con arrivo al Ginolisa alle 16.30. Lumi Wings opererà le nuove tratte in sostituzione di quelle attualmente programmate su Milano Malpensa, anche se il vettore non esclude la possibilità di prevedere frequenze aggiuntive su Milano Malpensa in particolari periodi di picco. Aver ottenuto gli slot sullinate a pochi mesi dall'inizio delle operazioni di Foggia è un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro fatto, ha commentato il presidente dei aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.